In questa nuova puntata ai Musei Civici di Udine andiamo ad esplorare qua e là rapidamente altre opere o manufatti che hanno a che fare con l'iconografia musicale. Siamo nel Museo del Risorgimento e in particolare gli strumenti aerofoni e membranofoni, nello specifico trombe, trombe naturali, trombe dritte, le famose chiarine ma anche tamburi di artiglieria ce ne sono parecchi unitamente ai canti, ai canti del Risorgimento di cui questo Museo ne dà testimonianza. E tra questi vari cimeli del Risorgimento notiamo ad esempio in questa feluca e al suo fianco delle rappresentazioni dei cornetti postali, corni da caccia cosiddetti che sono anche il logo fino a poco tempo fa delle poste se ben ci pensate. Sono queste cornette ricurve che appartengono in questo caso al Regno Italico e dell'insegna dei cacciatori della Guardia. Ed ecco qui un vero reale tamburo da parata della Guardia nazionale, dunque dei primi dell'Ottocento con tanto di bacchette a mazzuolo, mentre al suo fianco c'è un bellissimo ritratto realizzato da Odorico Politi che rappresenta il musicista Pascottini Palese, colui che è stato il fondatore della banda di Bertiolo nel 1825 e fu anche a capo della banda della Guardia nazionale, un musicista, insegnante, compositore e anche costruttore di strumenti musicali. Si nota tra l'altro il dettaglio del suo strumento prediletto, qui nel ritratto in fondo a sinistra c'è la campana di un clarinetto. E per fare una rapida carellata di trombe e chiarine in contesto risorgimentale, ecco la ritirata di Garibaldi sull'appennino di Umberto Valentinis. L'unione di Venezia all'Italia di Giacomo Casa, dove c'è di nuovo una fama che regge una chiarina. Vediamo in fondo a destra un tamburo su cui viene scritto il celebre motto Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia, Viva Verdi. Poi ancora abbiamo una tromba qui nel busto commemorativo dedicato proprio a Garibaldi e ancora altre opere come questa. E a conclusione di questa puntata, per chiudere con una bella risata e le glorie trasformiste del violino romantico, ascolteremo dal capriccio numero 13, cosiddetto La Risata, in si bemolle maggiore, il violinista Cristian Sebastianutto. La Risata, in si bemolle maggiore, il violinista Cristian Sebastian Sebastian Stanislano, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.